Ciao a tutti ragazzi, sono Ndd e bentornati sulla Monster Eravamo rimasti che ho sistemato qui sotto innanzitutto Ho levato la cesta, la cestica e ne ho fatta una un po' più grossa Poi io volevo prendere questo un attimo Ok, e mettere, ovviamente me lo lascia carico ragazzi, me lo lascia carico, 40.000 e 1 Me lo lascia carico, però io volevo fare questo qua Eccolo, Lerdstone a Erdened Perché porta 2.000, cioè 20.000, 20.000, non me lo ricordo più Riceve 80 e manda 80, però è uguale, identico a questo C'è solo di bello, c'è solo che è un po' più carico Porta più carico, vabbè, comunque, me ne fotte proprio Ok, no, manda di più, 180, 230, 280 e fino a 400, buono E anche carica di più Io posso anche mettergli 400 qua Perché in realtà Lui ce la dovrebbe fa a mandarmi 400 Questi qui sotto ce la dovrebbero fa a mandarmi 400 Hanno la lava a go go proprio Perché questo è quasi pieno E' fantastico, regà, è fantastica sta mod Mi piace un casino proprio Mi piace un casino Ah, poi sto ricaricando la tuta Volevo vedere a che punto era arrivata Corri, ah, non corre più E non corre più come prima Questa è quasi arrivata e questa pure Bene, 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 bene Poi dopo ci mettiamo con l'altro i due pezzi Allora, io intanto che fa tutto qua Ho scavato, come volete vedere ho fatto un buco Dove va a finire sulle ceste Perché va a finire sulle ceste? Perché qua, attaccato a questo appena si ricarica E si sta ricaricando molto velocemente ragazzi Volevo metterci quello là della Tinker Construction No, della Logistic Pipe Poi dobbiamo fare della Logistic Dobbiamo fare i fottutissimi Come si chiama? Ma che cacchio ho spinto? Come si chiamano i Logistic Pipe Logistic Ok I tubi I tubi del Basic Logistic Pipe Eccoli qua Questi sarà un bel cacchio al sedere Sarà un bel cacchio al sedere Perché dobbiamo fare i Diamond Transport Pipe Otto con un coso? Ce ne fanno otto su otto? E allora lo facciamo subito un Diamond Transport Pipe Vetro, 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 vetro Poi la cosa che vorrei fare io E' cercare... Non me li dà? Motivo? E poi perché sta caricando il mio computer? Che cazzo ti carichi? Perché non me li dà? Eh, fratello Eh, uh Diamond Diamond Ah, fermi Ma quanto so stupido Ma so poco... A volte so poco stupido Ma porca vacca, no? Ci stava scritto che andavano così E io ho messo al contrario Bah Allora, con otto di questi E messa tutta l'ambara trattica Dobbiamo fare anche il Provider Crafting Satellite Swap Layer Logistics Intanto facciamo i Basic Che dobbiamo arrivare Cobblestone Beh, questo proprio ce ne abbiamo Sette milioni Cobblestones Cobblestones Ok E no Otto vanno bene Che mettiamo quattro e quattro Non mi vado a mettere a fare Duecento milioni di cose Pipe qua Anche se forse otto Era meglio Ne facciamo altri otto Così mettiamo otto Qui, otto e lì Perché così almeno No, uno solo Uno solo Uno solo Bene Altri otto E facciamo Otto qui E otto qui Poi facciamo Otto qui E Un redstone golden keep set Quello si fa facile E che voleva? Redstone torch La redstone torch Redstone e oro Redstone e sulfur E oro Uno solo Più che bene Lo facciamo qua E dai E perché non me lo crafta? Era redstone e oro Scusate Eh sì Gold redstone Non è difficile Fermi 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 Assembly table Mannaggia a me De quando svengo Qual è l'assembly table? Assembly 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 table E me Assembly table Eccolo qua Se tua nonna Tua nonna Diamond gear Tu stai scherzando Vero? Tu stai scherzando Io lo faccio con quell'altro Lo faccio eh Io lo faccio con il coso Logistic Io lo faccio con quell'altro eh Lo faccio con questo Ah bimbo frizzo Ma che te sei messo in testa? Ah bello di casa Eh dai E su E non si può eh E non puoi rompere così tanto i coglioni eh Dovremmo dormire addirittura Allora Dobbiamo fare Il gear Yes Il gear Quindi ci serve Il gear Ah ok Tutti i parapippi Parapappa Dei gear Allora facciamo così Facciamo tutto da qua Così almeno Ce ne ho solo tre Scusate ragazzi C'è pure la tosse Sto cazzo De polline Mi sta a massacrare Se mi sentite con la voce Un po' strana È perché Purtroppo il polline Mi sta uccidendo Perché ne ho fatti due Ne ho fatto uno solo Non lo so Non lo so neanche io Non lo so neanche io Ok Non me lo fa direttamente Col cacchio Dobbiamo usare Il ferro Prima Sto singhiozzando Mannaggia Da che diavolo è il ferro? Io ce l'avevo il ferro Io il ferro ce l'avevo Ce l'avevo Ce l'avevo Cacchio Dovrei avere Eh Porco cane Non dovrei avere un bot Quando sistemiamo Tutte queste ceste Finalmente È divino Grazio Poi dopo Basta andare Sulla cesta predefinita E abbiamo risolto Ok Questo qua Poi Otto qua Otto qua Otto qua Redstone qua E vetro 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 Ok Ecco Ma adesso Quando mi rimangono Settanta milioni Devo fare Otto gear Stai scherzando Vero Tu stai scherzando Con il fuoco Ecco perché Scusate Undici Otto Otto gear Devo fare Madonna Santa Tolorata Ehm Beh Sono soddisfazioni Sono soddisfazioni Otto E sono sette E ho una Otto E cacchio Per una Vabbè aspettate Fermi 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 Ok Lo facciamo qua Quattro pezzi Otto Bene Otto gear Che trasformate Con Facciamo così Perché non mi va Di mettermi A dividerle Ok Otto di queste Che Otto di queste Fanno Metti qua Metti qua Metti qui Metti qui Otto di quelle Trasformate Con Otto iron Orca vacca L'iron Che stiamo a sprecare Lo Il ferro Che stiamo No Il ferro Che stiamo Sprecando Non ve lo Sto neanche A dire Ah Signore Signore Ok Otto di queste E non vi dico Loro Che dobbiamo Sprecare Adesso Non vi dico Loro Che dobbiamo Sprecare Porca vacca Ladra E vai Sì Tanto Che ce ne frega Che ce ne frega Che ce ne è Allora Sono sette 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 E Sette qui E sette Vabbè Ho messo otto Ci circolo Boom Sessantaquattro Ne è avanzato Uno Bello Facciamo i prossimi Qui Ok Sessantaquattro Dovremmo arrivarci Fino alla sotto Mannaggia la vacca Ora però Dobbiamo fare Il Mark 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 Crafting Logistic Fluid No Quello normale Logistics Supply Pipe Satellite Crafting Dove sta Quello Request Crafting Logi No 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 Fluid 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 Eccolo Mark 2 Questo qua Ah È facile Dobbiamo fare Altro Maledetto ferro sprechiamo altro maledetto ferro per fare allora ci servono di quelli, 1, 2, quante casse ci abbiamo? 1, 2, 3, 4 per ora ne facciamo 4 poi dopo facciamone 5, poi dopo vediamo adesso non tardo perché se non ci metto 5 qua che cacchio faccio? 4 per ora ne facciamo solo 4 oh signore, madonna la roba che abbiamo buttato questa è mi buttata proprio ok, questo è mio corri fratello, no, dormire che se non si carica la tuta, dai dai che se non si carica la tuta porca vacca ok ragazzi, noi stiamo andando avanti molto in fretta anche se io volevo andare un po' più piano però ok, questa è carica, ci mettiamo questo questo, carico e ci mettiamo questo ok, carica però alla fine ragazzi meglio così perché se no qua affittiamo a Natale affittiamo veramente a Natale allora ora noi qui abbiamo questa che va messa io la metterei proprio qua dove poi porterò i cavi su perché poi se no no, 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 no va qua va qua fermi la mettiamo qui all'angolo i tubi li facciamo passare sotto sì, perché non mi va di oh copper questo è copper oh oh questo è copper oh oh questo è copper è mio copper mio mio copper allora i tubi li facciamo passare qua sotto quindi un altro qua oh copper mio copper mi cos'ha qua sotto? non lo so mio copper mia nocciolina ok questo lo mettiamo qui questo lo mettiamo qui ok, i cavi li passiamo qua eh, sì come li prendo io i cavi adesso? ahaha che ebbete non ci ammette quando stengo ok, dobbiamo andare a prendere i cavi quelli lì della redstone quelli dell'energia praticamente per intenderci che dovevo avere qua nope qua eccoli qui ce ne ho 4 ancora vabbè quelli sono facili da craftare una cacchiata intanto mettiamo il copper a fare qui via copper vai copper vai succhia copper succhia ok allora mettiamo eh però qua mo si unisce si unisce là sono sicuro che si uniscono no non si sono uniti perfetto perfetto proprio eh però mi pare che non si unisce questo a quello no dobbiamo metterlo per forza attaccato e vabbè fammi passare i cavi sotto fammi passare ma chi se ne frega dammi qui non mi va di distruggerli via questo via questo via questo mio 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 allora lo scavo lo lasciamo no no ah si c'è ragione questo è l'unico che si scava così lo scavo lo lasciamo perché mettiamo un blocco lì e questo ce lo mettiamo attaccato pom ah mo dobbiamo mettere l'uscita al lato qua eh l'uscita al lato qui perfetto dovrebbe dovrebbe caricarsi col cacchio no come cacchio era l'uscita come era l'uscita ah perché quello frontale panculo panculo con la p panculo no non si carica si si sta caricando eh va fandomazze solida ok questo da 50 ne riceve 400 è meglio lasciarlo così eh anzi io metterei 100 tanto ricevi 400 vediamo no scendi non va bene però vabbè tanto si deve ricaricare tutto prima che si ricarica tutto eh allora 10 reddon flux sono 5 lp questo da r reflux e quindi siamo fottuti ci metterà una cazzo di vita no scendi a 50 fratello eh così ti ricarichi oltre ad uscire ok adesso adesso ho detto vabbè lasciamo perdere che io sono un po' malatuccio colleghiamo i nostri bene bene amati cavi ok dobbiamo scavare 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 ok 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 via 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 ui qua c'è una cosa molto interessante cos'è è mio è tutta roba mia ok mi dai no si via send me metti quello che attappare qua però a me mi serve quartz no che mi serve per attappare dopo ok questo qua e qui qua qui va tutto su e noi portiamo i cavi portiamoci i cavi anche se potevamo benissimo prendere no 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 fermo fermo qui mi serve quell'altro cavo qua qua e sta e qua questo però fermo dobbiamo scavare qui ok dobbiamo scavare lì questo questo e questo no porca vacca come cacchio ok come ci salgo così ok saliamo in questo modo salo ancora troppo ok ok allora questo questo e questo questo perfetti poi questo e questo ok stiamo a cavallo ragazzi non ci vado muori grazie ora però io devo scavare qui innanzitutto ok perfetto perché qui dentro ci vanno messi questi che mettiamo item sync serve iron redstone è facile dai non è difficile poi serve passivi no extractor no quello dopo qui sort no termine advanced b b b drone b or parfa farà fare fa no advanced extractor no 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 questi sono i remote orders e niente per ora serve solamente read and sync poi dovremmo fare il quick sort mi sembra e poi basta ah il polymorphic serve il polymorphic e l'item sync orange 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 come li faccio orange di merda solo calana abbattà più under cuo no mi devi dire come ti faccio brutto imbecille schifoso orange coral della mariculture ma che cacchio ma che tassio dici vabbè l'orange poi lo cerchiamo e lo facciamo comunque nel prossimo episodio si fanno sti bene amati cosi il polymorphic serve che è importante e poi 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 basta solo questi polymorphic e un altro poi qua sotto metteremo una cesta a metà tra il vecchio e il nuovo metteremo una cesta qua qui anzi io ci collegherei proprio questa anche si si ci colleghiamo anche quella fermi allora scava qua scava qua e metti questo e questo qua bene perfetto siamo a cavallo si però fammi salire fratello ok possiamo attappare il tutto qui dove sta il quarzo quarzo qua 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 qui qui ok ok e qui ci mettiamo la co vabbè qua e questo qua lo lasciamo così che voglio vedere voglio vedere innanzitutto voglio vedere proprio inizialmente poi dopo tappiamo tutto voglio vedere se funzia ok questo lo leviamo non mi serve più perfetto siamo a cavallo questo si sta ricaricando questo è scarico no 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 si sta ricaricando anche lui piano piano adesso io faccio così si dovrebbe scaricare con una velocità immensa proprio e questo ricaricare con una velocità immensa però siccome miro del cucco lo mettiamo a 150 anche se scende troppo così scende già un po' meno no no meglio 50 così ti ricarichi e piano piano carichi questa se no qua veramente famo una cosa troppo veloce allora noi ci vediamo in un prossimo episodio dove finiamo di sistemare questa logistic pipe e finiamo di mettere a posto tutto poi una volta fatto qua dentro ci potremmo mettere quello che ci pare va tutto dentro ai casse su adesso l'unica cosa è fare altre casse di ferro ovviamente dobbiamo andare un po' in caverna forse nella prossima puntata dobbiamo prenderci un bel po' di roba e niente noi ci vediamo in un prossimo episodio come sempre sono Andiri e ciao a tutti io intanto vado a vedere di là se è carica se è carica sorella si che è carica questo oh yes mettiamoci questa oh yeah ok ragazzi ci vediamo alla prossima episodio ciao a tutti ah mi avete detto che dovevo togliere una di questi qua ma non mi sembra che sia molto grande come pensavate perché questo è così anzi mo facciamo il coso e ci prendiamo il blu ci prendiamo il blu questo è della Twilight quindi ma non vedo che sia molto prorompente non rompe tanto i coglioni quindi vabbè lo lasciamo così e ciccia il culo ok ragazzi davvero questo è davvero tutto ci vediamo nel prossimo episodio ciao ciao Grazie a tutti.